segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te troviamo tutto va beh ad ogni caso non è responsabile lui le decisioni sono prese molto più in alto di quelle del nostro capo di stato che in questo senso non conta molto ma la mancanza qui di ricordare un minimo di contesto e per discrezione per eleganza non lo so che in questo paese ucraina come confermato mesi fa da tutta la nostra stampa anche da quella qui presente dall'osce e dall'onu esiste un regime basato su forze politiche e armate naziste che ne fanno di tutti i colori che tutta un tratto sono volatilizzate non esistono più anzi sono diventate simpatiche e questo è un processo di odio nei confronti dei russi eccetera o del diverso che rassomiglia moltissimo all'odio che si teneva o si nutriva nei confronti degli ebrei alcuni decenni fa perché la stessa rimozione la stessa categorizzazione di sotto uomini di putiniani che sono inaccettabili questo è un dato di fatto veramente sorprendente fermi tutti non applaudita perché francamente non trovo con tutta la simpatia per pulvo grimaldi una parola da applaudire di quello che ha detto ci stanno i nazisti o no i nazisti stanno pure in italia non è che ci invade la francia ma non è questo questi nazisti hanno massacrato per otto anni un popolo che non aveva un colpo di stato professoressa collari se non li chiamiamo